10 settembre 2021, venerdì, buongiorno, ben ritrovati a tutti i cari telespettatori, Fano TV, canale 17, c'è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno. Iniziamo dal santo, oggi è San Nicola da Tolentino, restiamo anzi nelle Marche per parlare di questo santo, sacerdote dell'Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino, che dedito ad una severa astinenza e assiduo nella preghiera, fu severo con se stesso ma clemente con gli altri e spesso imponeva a se stesso le penitenze che invece doveva dare agli altri. Allora, salutiamo quindi gli amici che ci seguono a Tolentino, immagino per loro sarà una giornata di festa, 6.41 in l'alba, 19.29 invece il tramonto. Come sempre andiamo a vedere anche il tempo per la giornata di oggi e per i prossimi due giorni, dal sito della protezione civile delle Marche per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, non si escludono nelle zone di montagna, vedete sui sibillini qualche piovasco. Domani è ancora un po' nuvoloso, nella prima parte della giornata, temporanei locali addensamenti più consistenti nel primo pomeriggio nelle zone collinarie e montane, poi nella giornata invece di domenica avremo ancora cielo sereno, locali annuvolamenti, ma insomma nel corso della giornata qualcosa nella costa dovrebbe migliorare perché gli addensamenti saranno soprattutto sui rilievi, poi tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana. Che dire, insomma, siamo quasi alla fine di quest'estate, siamo al 10 di settembre, ma comunque i nostri bagnini sono ancora all'opera, stanno ancora lavorando, e vedo il nostro invece Enzo Monachesi dalla spiaggia di Velluto che è già operativo, anche tu sei operativo. Buongiorno, c'è una bella bassa marea stamattina là. Sì, questo è il periodo di bassa marea, sì. Da cosa dipende? E quindi si raccolgono le vongole. Ok. Come vedete alle mie spalle ci sono dei signori che raccolgono le vongole. Ah, che poi si mettono gli spaghetti, insomma, si fa la bella spaghettata delle vongole, no? Eh, ce n'è parecchia però di gente che va a prendersi queste vongole. Poi c'è chi passeggia, la temperatura oggi com'è? Siamo sempre intorno ai 16 gradi a quest'ora qui, la temperatura è questa, è stabile. Allora Enzo, siamo quasi in chiusura, domani ci sarà questo ultimo collegamento. Allora, volevo chiederti, siamo alla fine di questa ormai estate, insomma, adesso, come è andata a Senigallia? Avete fatto da poco la fiera, insomma, gli eventi, anche voi con il Covid ne avete fatti pochi, però quello di punta è stato fatto, per esempio il Summer Jamboree è stato fatto, c'è stata gente, immagino. Beh, tutti eventi molto simbolici. Simbolici. Non, diciamo, efficaci. Cioè non hanno fatto girare i soldi, non hanno fatto girare i soldi, l'economia. Molto poco, diciamo, però era importante non mollare, quindi è stato dato il segnale che non si mollava, però immaginatevi un Summer Jamboree dove è vietato ballare, è una manifestazione che non è una manifestazione. E certo. E poi tutte le altre manifestazioni erano tutte molto, diciamo, soft, perché, diciamo, limitate dai tantissimi divieti. Però hai detto bene tu, era più che altro qualcosa di simbolico, cioè per non fermarsi, ecco, per dare un segno di speranza, anche se vogliamo, no? Sì, assolutamente. Il segnale è stato dato chiaro, cioè nonostante tutto Senigallia organizza, Senigallia è presente, Senigallia accoglie. Ma come Senigallia penso tutte le città, diciamo, rivierasche che sono abituate, insomma, a questo tipo di modalità. Sento che soffia del vento, eh, il vento entra nei microfoni. Ecco, niente, ci salutiamo qui, ti ringrazio anche per questo collegamento mattutino, ti auguro buon lavoro a te e un buon soggiorno ai tutti i tuoi ospiti. Grazie, un saluto a voi tutti. Grazie, buona giornata. Allora, andiamo subito sui nostri giornali, sui nostri quotidiani, cominciamo dal Carlinio di Pesaro. Allora, la fotonotizia è per il vincitore o la vincitrice di questo milione di euro a Sant'Ippolito, una persona che ha giocato un euro e ne ha vinti, praticamente ha vinto un milione. Beato il paperone, questo è il titolo della fotonotizia. Poi test salivari al via per 300 studenti, caccia al virus, i ragazzi di elementari e medie saranno sottoposti ai tamponi, le calecca. Si parte nella giornata di mercoledì. Mancano falegnami, elettricisti, ma i corsi regionali puntano al marketing e al turismo, l'offerta non si incrocia con la formazione. Poi l'addio a Nicola, folla e lacrime a Sant'Angelo in Vado. La settimana in moto, Benelli, Wickel, Leoncino attira appassionati da tutto il mondo. Al parco Scarpellini, invece di Pesaro, la baby gang colpisce ancora e ruba telefonini. Tre i denunciati, mentre la lotta al degrado in centro, i lanciatori di rifiuti beccati dalle telecamere, quattro i multati. Sotto lo sport Costa, tifosi abbonatevi, il nostro Palace è sicuro. Calcio, Vis, Marcandella, K.O., Fano, ecco il calendario. Il calendario ovviamente di serie D. E come vedremo, no, forse non lo vedremo perché non l'ho selezionata, ma comunque ho letto l'articolo. Dicono insomma in sostanza che le prime partite saranno quelle toste per la squadra del nuovo presidente russo. Andiamo sul Corriere Adriatico, sempre edizione di Pesaro. Ovviamente sanità, fuga verso la Romagna perché l'ortopedico Bartoli, che lavorava a Marche Nord, apre un polioambulatorio a Rimini e nel suo staff ci sono medici di primo piano come Beatrici e Zingaretti. Dall'area vasta, mobilità passiva ospedaliere per 43 milioni di euro. I sindacati chiedono incentivi per il personale, mentre a centropagina gioco a un euro, vince il milione. Million Day d'oro a Pian di Rose. Poi la regione, il centrodestra, il centrodestra che fa dietro fronti in aula, niente Green Pass. L'aula è quella del Consiglio regionale. Poi la cronaca da Pesaro, zain rubati al parco nei guai tre minorenni individuati con il GPS. A Mondolfo il sindaco ordina Miu, la discoteca chiusa a Luna, annullata anche la serata. Poi schianto fatale, annunciati i lavori sulla via incriminata, lo schianto al Codma di Rosciano di Fano. Torna alla fiera di San Nicola, subito la prova anti-Covid. Gli organizzatori temono defezioni degli ambulanti, cioè che non ci siano bancarelle a sufficienza. Appello dell'assessore, partecipate per la ripresa. Verrebbe da dire, ma voi metteteci in condizioni, perché dire di partecipare va bene, ma noi partecipiamo. Ma dateci una mano. Brodetto Fest, un altro evento invece che si tiene a Fano. Oggi al via e al mercato, il mercato del pesce, crollano i prezzi. La verità invece, giù la maschera, il vaccino non basta. La verità è il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Speranza, il Ministro della Salute, ha passato un anno a ripetere che le iniezioni sarebbero state l'unica salvezza. Ormai è ora di dirlo. Questo non è vero. Insistere sul dovere morale della puntura, insistere sul dovere morale della puntura, serve a nascondere le altre cose da fare. Ovvero curare le persone e intervenire su aree chiuse e trasporti. L'AIFA scavalca l'EMA. Il Ministero annuncia circolari. Sulla terza dose siamo ormai alla cabala. E allora, a proposito di Green Pass, il Corriere Adriatico, nelle sue prime cinque pagine, nell'edizione di oggi, si occupa anche del Green Pass per accedere all'Aula del Consiglio regionale delle Marche. Quindi, sì, al Green Pass, anzi no, questo è il titolo, il pasticcio centrodestra per il Consiglio regionale. Sconfessata la linea pre-ferie, cioè quella che era stata stabilita prima di andare in ferie, Ser Filippi della Lega apre il fronte, Fratelli d'Italia e Forza Italia si allineano, mentre critici, Movimento 5 Stelle, che dicono così si sconfessa tutto, e ovviamente critico anche il PD, che parla di cinismo per accontentare Lameloni e Salvini. Che cosa è successo? È successo praticamente che per entrare nell'Aula del Consiglio regionale non ci vuole il Green Pass, o meglio, i consiglieri, gli addetti, non dovranno avere il Green Pass, mentre gli esterni, compresi i giornalisti che seguono i lavori dell'Aula, invece dovranno avere il Green Pass. Allora, tutto parte più o meno con questa decisione che dovrebbe essere stata poi rettificata dall'Ufficio di Presidenza, ma questo prima delle ferie, poi però qualcosa è successo durante le ferie, evidentemente si sono confrontati, e che cosa è successo? È successo che il consigliere e segretario Luca Serfilippi, in quota Lega, ha chiesto che la proposta, quella di mettere il Green Pass per tutti, fosse di nuovo sottoposta alla conferenza dei capigruppo, perché nel frattempo si sono palesati dei ripensamenti e la linea passa a maggioranza con la contrarietà dei rappresentanti Dem, Biancani e Vitri. Quindi il consigliere della Lega propone di fare questa conferenza dei capigruppo, tutti d'accordo, eccetto Biancani e Vitri del Partito Democratico. La conferenza dei capigruppo convocata ad hoc per parlare appunto dell'affare Green Pass si è svolta ieri e tutti i gruppi di centrodestra si sono espressi contro appunto il Green Pass. La posizione del carroccio, qui viene elencata la posizione del carroccio, quella del capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, secondo cui si tratta di un tema molto divisivo ed è opportuno uniformarci al comportamento della Camera e del Senato, dove tra l'altro, lo sapete, per entrare alla Camera e del Senato non è previsto l'obbligo di Green Pass per i deputati e senatori chiaramente. Le accuse più dure invece arrivano dal PD, che schiera anche i parlamentari Alessia Morani e Francesco Verducci, che dicono e parlano di atto di cinismo inaudito, per accontentare Salvini e Meloni non esitano a mettere a rischio la salute di consiglieri e dipendenti. Mentre sull'obbligo vaccinale nelle case di riposo, questo ormai è assodato, obbligo vaccinale, questo da qui non si fugge, è per chi entra nelle scuole, quindi le nuove disposizioni del Governo per contrastare i contagi Covid. Poi c'è un'altra notizia invece che riguarda i vaccini. AstraZeneca e Janssen cala il sipario sui sieri. Che cosa succede? Praticamente nelle Marche saranno utilizzati solo Pfizer e Moderna, quindi non si userà più AstraZeneca e non si userà più Janssen, quella che è la monodose. Questo perché? Perché molti l'hanno rifiutato. Abbiamo già detto ieri che nelle Marche sono ormai tantissimi quelli che si sono vaccinati, su un milione e trecento, un milione hanno già avuto quasi la seconda dose, quindi alla fine voglio dire, i marchigiani sono quasi tutti vaccinati. Però con Pfizer e Moderna molti hanno rifiutato AstraZeneca e Janssen appunto. Il dottor Di Muzio dice rispediremo alla struttura commissariale 10.000 antivirus, 10.000 fialette che tanto non servono, qui nelle Marche non servono. Poi fragili, anziani RSA e sanitari, l'AIFA del via la terza dose, il booster che sarebbe il richiamo verrà iniettato a sei mesi dal secondo richiamo con Pfizer e Moderna. Secondo l'indicazione del Governo anche nelle Marche si partirebbe alla fine del mese. Chiaramente questo richiamo, questa terza dose è in prima battuta per gli immunodepressi, per i trapiantati e quindi non è diciamo subito per tutti. Intanto al via i test salivari per medie e elementari, saranno sottoposti all'esame a campione da mercoledì prossimo 338 studenti, ancora non si sa quali sono le scuole scelte, però di sicuro ecco ci sono questi test salivari, i famosi lecca-lecca, che chiaramente spaventano meno anche ai ragazzini, ai bambini insomma, soprattutto i più piccoli. La cronaca, rubano zaini al parco Scarpellini, tre minorenni incastrati dal GPS, un caso che è stato risolto in poco tempo dalla squadra volante della questura di Pesero, grazie anche alla tecnologia. In che senso? Il GPS e un'applicazione del telefonino che un genitore aveva attivato, installato nel telefono del figlio per conoscere appunto i suoi movimenti, ha permesso appunto alla polizia di identificare e di vedere un po' la situazione. Sono stati denunciati per danneggiamenti e furto e a danno di coetanei un quindicenne e due sedicenni. Il raid è successo, è stato organizzato in bicicletta dalla celletta. Nuovi scogli a Sottomonte, via libera da mezzo milione di euro, dopo l'amareggiata di luglio caccia ai fondi per intervenire entro l'estate del 2022. Poi il problema dei cinghiali, che è un problema che sta continuando a creare davvero danni su danni. Questa volta siamo ad Acqualagna, dove tartufi pregiati sono stati appunto distrutti dai cinghiali. Gli agricoltori chiedono l'abbattimento, grido di dolore di un produttore, hanno rovinato il raccolto nonostante la recinzione, l'appoggio della Coldiretti. Qui abbiamo, raccontano, spiegano Paolo Marinelli e la moglie Teresa Fraternali Grilli, dice qui abbiamo quattro ettari di tartufo di nero pregiato e nonostante la recinzione i cinghiali sono riusciti ad entrare e a fare danni molto importanti. L'80% del raccolto, dice, è andato in rovina, migliaia di euro persi, migliaia di euro di danni. È praticamente un anno che se ne va, un anno perso. Dalla cronaca di Valefoglia, invece, del Corriere Adriatico, Urbino, secondo udienza al Tribunale del processo per un colpo di mortaio, che il 12 giugno 2018 causò il grave ferimento al viso di una soldatessa impegnata al poligono di Carpegna in una marea di avvocati, testimoni, periti, testimoni e indagati. E c'era anche lei, il caporal maggiore Vanessa Malerbi, che oggi ha 30 anni, di Lucca, che quella volta, insomma, nel 2018 venne colpita dalle schegge di un proiettile di mortaio caduto durante un'esercitazione della folgore. Ed era presente anche lei, come scrive Eugenio Gulini questa mattina sul Corriere, che ha confermato, la soldatessa ha confermato di aver perso la vista e udito dal lato destro e ha difficoltà di masticazione. È stata risarcita di 28 mila euro da parte del Ministero della Difesa e delle spese per visite varie che prima, dice lei, pago e poi chiedo il rimborso. Però mi è già stato detto, racconta la soldatessa, che verranno tra breve questi soldi sospesi. Adesso svolga un ruolo civile all'interno dell'esercito. Mentre a Urbino, lutto cittadino per l'addio a Nicolaus. Nicolaus, lo vedete in questa fotografia, Matteucci, che si è sparato un colpo di pistola, un 21enne che si è sparato un colpo di pistola, in quella giornata così incredibile, drammatica, dopo aver provocato un incidente, un incidente banalissimo, dove non era rimasto ferito nessuno. Questo ragazzo, preso dal senso di colpa, è andato a casa, è fuggito, non si è neanche fermato. I carabinieri lo hanno rintracciato, si sono presentati a casa e il ragazzo li ha accolti, li ha accolti all'interno della sua abitazione, poi con una scusa, la scusa di andare a prendere dei documenti, nell'altra stanza si è seduto sul letto e si è sparato un colpo di fucile. E' chiaramente una notizia che ha destato profondo dolore a due o tre comunità, non solo Sant'Angelo Invado, dove lavorava, insomma ovunque. E in questo articolo di oggi, sul Corriere Adriatico, Eugenio Sempregulini racconta un po' quello che è il funerale che è stato celebrato ieri da Davide Tonti, Monsignor Tonti, che ha detto il dramma ci lascia attoniti, traumatizzati, ci fa capire la fragilità dei giovani di oggi. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano, perché si parla di un'altra tragedia che ha colpito invece la comunità fanese, la morte di un 57enne molto conosciuto, tra l'altro Alessandro Minardi, lo vedete in questa fotografia qui sotto a destra, eccolo qua, di professione meccanico, che è deceduto a causa dei numerosi profondi traumi riportati nell'incidente stradale di mercoledì scorso a Rosciano di Fano. Ancora non si sa, almeno nel tardo pomeriggio di ieri, erano ancora a definire date e orario del funerale, ma la notizia in apertura, qual è nella pagina di Fano? E' che dopo questo schianto, come al solito in Italia c'è bisogno del morto prima di fare le cose, nonostante questa, secondo anche i residenti, fosse stata una morta annunciata, dopo questo schianto mortale adesso partiranno, sono previsti i lavori per aggiustare quella via, che adesso è finita sotto accusa. L'assessore Tonnelli dice avrei preferito parlare in un'occasione più felice, ma Fratelli d'Italia chiede le sue dimissioni. E ancora, ecco, in che modo verrà sistemata? Poi c'è tutto l'articolo che spiega bene. Si realizzeranno due rotatorie, a Rosciano si parla di una morte, come vedete, annunciata, due rotatorie per evitare manovre strane. La pagina di Fano invece del resto del Carlino, gadget in premio per chi transita in bicicletta nel centro storico, Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dalle 7.30 alle 9.30 in via Garibaldi e dintorni. Quindi se percorrerete questa via, insomma, zona emitrofe intorno a quest'ora, dalle 7.30 alle 9.30 vi daranno un premio, se siete in bicicletta vi daranno un piccolo gadget per dire che, insomma, per ringraziarvi del fatto che siete in bicicletta e quindi non inquinate. Brodetto, grandi firme, tre giorni da gustare. Oggi i primi cooking show degli chef stellati si cominciano con Faccani, tanti eventi culturali con Bartoletti, Tinto e Roberta Capua. Poi sotto, domani il Memorial Filippo Montese a Sant'Orso, l'appuntamento è per le 15 di domani al campo sportivo intitolato proprio al Marò Scomparso. Mentre sulla pagina di Fano, ancora del Corriere, triglie, canocchie in abbondanza e all'ingrosso, ora di nuovo completa l'offerta per il Brodetto, parliamo di pesce, ritorno in mare dei pescherecci chiaramente facilita tutto questo, prezzi in calo al primo rientro dei pescherecci dopo il fermo pesca, il festival da oggi fino a domenica. Poi gioca un euro e vince un milione, siamo sulla pagina della Valmetauro del Corriere, la fortuna bacia il bar centrale, Pian di Rose fa il botto con il Million Day, la titolare dice non sappiamo chi abbia scelto quella cinquina, comunque di sicuro, intanto speriamo che se ne sia accorta di questa cosa, perché molti giocano, poi dimenticano la schedina e ci sono tante vincite non riscosse, quindi speriamo che se ne sia accorta la persona, adesso io non conosco il gioco, non conosco il meccanismo, ma comunque ecco, ci sono anche tanti che giocano e poi si dimenticano di riscuotere. Perdita, e non si accorgono nemmeno di aver vinto soprattutto, perdita d'acqua in strada, siamo a Fano, Aset lavora di notte, l'operazione per limitare disagio al traffico ha causato alcuni distacchi della rete. Poi il sindaco invece, qui siamo a Mondolfo, il sindaco dice il MIU chiuderà a luna di notte e il locale si dà lo stop per un mese, ordinanza di barbiere fino al 10 ottobre dopo la pausa di 30 giorni decisa dal questore annullato anche l'evento di questa sera. Mentre sulla pagina di Senigallia, condannata per il furto di Gioielli, la badante infedele va in carcere. L'albanese di 39 anni deve scontare due anni e tre mesi per aver sottratto l'oro all'anziana che doveva assistere. Arrestato dai carabinieri è anche un 45enne che ha provocato un incidente perché ubriaco. Poi ancora dalla pagina di Senigallia, due giovani con la droga scoperti dalla polizia, gli agenti del commissariato hanno sorpreso i ventenni alla cesanella e al campus. Ancora da Senigallia, schianto shock, fatale il doppio impatto per Jennifer, non poteva esserci scampo, traumi troppo gravi per resistere i primi esiti dell'autopsia svolta ieri sul corpo della biker. Lei andava in bicicletta, era una professionista. Ora la salma della 35enne può essere restituita ai familiari per i funerali. Ancora da Senigallia però questa volta il resto del Carlino. Badante rubò gioielli ad un'anziana e è stata condannata. I monili d'oro spariti erano stati ritrovati dai carabinieri nella scarpa della 39enne e ora l'albanese dovrà scontare due anni e tre mesi di reclusione. Sotto l'autopsia su Jennifer, morta per lesione e quanto trappela dall'esame i conducenti di entrambe le auto sono indagati per omicidio stradale. L'informazione sul canale 17 si ferma qui per il momento ma tornerà questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.